Sarà realizzata nella zona industriale di San Pietro a Vico la nuova sede di sistema ambiente. Il progetto è stato presentato a Palazzo Orsetti alla presenza del sindaco Tambellini, degli assessori Raspini, Simi e Mammini e dei vertici della società di gestione dei rifiuti. La nuova sede che sostituirà quella attualmente in funzione alle tagliate sarà realizzata riqualificando l'ex capannone Cipriano, edificio già parzialmente costruito. Si tratterà di un immobile completamente green e a impatto ambientale quasi zero. L'area scoperta da utilizzare come parcheggio sarà ampia 8.000 metri quadrati, mentre il capannone sarà di 4.000 metri quadrati di cui 800 già adibiti ad uffici. Il presidente di Sistema Ambiente Romani e la dirigente Susini hanno spiegato che grazie alle tecnologie di efficientamento che verranno applicate l'azienda potrà ottenere risparmi sulla gestione ordinaria fino a mezzo milione di euro. Questo sito sarà senz'altro una novità importante per l'azienda, ma anche un prototipo secondo me per questo tipo di aziende e anche per questi tipi di interventi, perché comunque sarà realizzato con rispetto delle tecnologie green e sostenibili e speriamo che diventi un luogo anche che migliori la qualità di vita dei lavoratori, perché anche questo è un elemento che ci sta molto a cuore. Ovviamente si realizzeranno degli importanti risparmi per quanto riguarda i consumi, per quanto riguarda la logistica, abbiamo valutato tutti questi aspetti, quindi siamo fiduciosi che il percorso che abbiamo iniziato, oggi vediamo il progetto che si apporterà a dei risultati importanti per l'azienda e per la cittadinanza. Con questa opera, ha aggiunto l'assessore Raspini, vogliamo fare da apripista per gli altri enti pubblici e i soggetti privati, realizzando un modello virtuoso anche dal punto di vista edilizio che possa essere esportato al di fuori del nostro territorio.